Grazie, la manifestazione del 28 è aperta a tutti, promossa dalla Lega ma aperta a tutte le forze politiche, associative, economiche, culturali, sindacali. Ad oggi sono già prenotati e riempiti più di 200 pullman e esauriti 4 treni speciali. Per la prima volta ci saranno tantissime persone che arrivano anche dal centro e dal sud. Per Roma in particolare, oltre Renzi a casa, faremo una tiratura limitata di magliette che riguarda il sindaco più sciagurato della storia dei tempi e quindi per i cittadini romani sarà un marino a casa. E quindi ci aspettiamo non di riempire ma di strariempire Piazza del Popolo a Roma. Abbiamo invitato anche tutti gli 8 mila sindaci italiani, stanno già arrivando decine di conferme anche da sindaci di Forza Italia, di liste civiche, di movimenti di sinistra perché il governo Renzi sta massacrando tutti i comuni e le regioni a prescindere dal colore politico. Ovviamente si parlerà anche di un blocco non dell'immigrazione ma dell'invasione in corso e l'approssimazione delle parole dei ministri del governo in queste ore ci conferma che prima vanno a casa, meglio è perché parlano di guerra come se parlassero del bel tempo che cambia. E quindi un governo che non abbiamo capito se sia solo incapace o se sia anche in mala fede. Comunque prima va a casa, meglio è, siccome il collega me l'ha chiesto ribadisco che settimana prossima la delegazione della Lega andrà al Quirinale con le persone più indicate per parlare dei lavori alla Camera e al Senato, ovvero sia con i capigruppo alla Camera e al Senato e Matteo Salvini ci andrà molto volentieri a parlare non di legge elettorale ma di legge fornero e di immigrazione clandestina. Quando il Presidente della Repubblica avrà voglia sono assolutamente ben contento di potermi confrontare su questi temi con lui. Per quanto riguarda la manifestazione di sabato 28 e quelle che seguiranno benvengano, spero che qua ci sia un nucleo che origini qualcosa di buono, che va al di là dei patti del Nazareno, degli inciuci, della difesa disperata della poltrona che contraddistingue il Ministro Alfano e cose che non ci interessano per il bene del Paese, che è un termine abusato da quelli che vogliono salvare la poltrona e che invece a noi sta a cuore veramente.